Io vi consiglio, pensate il libro del nostro Marco Camisani, Calzolari, finalmente l'ha fatto, Cyberumanesimo. Stiamo vivendo una nuova era tecnologica, ma non bisogna mai perdere di vista i valori umani. Il futuro dobbiamo plasmarlo in modo che non siano proprio le macchine a decidere per noi. Brava Misce, bravo Marco, bella il suggerimento. In queste pagine si parla di intelligenza artificiale, democrazia a rischio, etica, lavoro rubato dai robot, insomma un libro molto attuale che vi consigliamo di leggere. Bravo Camisani, Calzolari.